Tino oggi parliamo di cultura, io sono mediatore, tra me e l'intervistato che invece è il nostro amico. Sono il cavaliere Riccardo di Canosa. Il cavaliere Riccardo di Canosa a qualcuno dirà poca cosa, scusami se ho fatto la rima ma ci stava. Invece Riccardo di Canosa è stato il barese, l'uomo che è stato ospite ben cinque volte, a Portobello, come antropologo polinesiano, pittore e biografo dell'artista francese Paul Gauguin. Capirete che è antropologo polinesiano, come direbbero i colleghi, come si acchiate a fare l'antropologo polinesiano? Negli anni 70, grazie alla conoscenza delle mie ricerche, delle esplorazioni nell'oceano pacifico. Che hai visto personalmente, hai esplorato? Che ho esplorato personalmente per ben due volte, la prima volta addirittura con la RAI, con Portobello, con una troupe televisiva. E hai esplorato con tutti i Portobello, si è esplorato tutti l'oceano pacifico? No, sono stato a Portobello perché avevo scritto l'unico dizionario e enciclopedico italiano taitiano, taitiano italiano di 12.900 vocaboli. Quanto tempo hai vissuto in Polinesia? Allora, in Polinesia sono stato la prima volta con la RAI, 5-6 giorni. Dieci anni dopo, quando andai in pensione, sono stato una ventina di giorni. Cioè tu per 25 giorni in Polinesia sei stato capace di fare un dizionario di quasi 10.000 parole tra l'aitiano, taitiano, italiano, italiano, italiano. 25 giorni in Polinesia. Ma non solamente i 25 giorni in Polinesia, è per gli studi che hai fatto. Per le ricerche, per gli studi, per le letture di decine e decine e decine di libri sulle usi e sequestrini polinesiani. Il più o il meno. Mi confondi, se tu interveni in Gabbates, mi confondi. Qual è il libro che più ha segnato la sua? I libri che mi hanno segnato profondamente sono stati le esplorazioni nell'oceano Pacifica venute da parte degli europei, gli inglesi, i francesi e gli olandesi. Il primo fu nel 1604, Abel Tasman, l'olandese. La tasmane si chiama, grazie a lui. Poi nel 1787 arrivò il primo navigatore ed esploratore francese, Louis-Antoine de Bougainville. L'anno dopo... Da lì nasce la pianta, la Bougainville. La Bougainville. Si chiama Bougainville. Tante donne, ecco, rivolgiamoci alle donne. La Bougainvillea. La Bougainvillea si chiama così perché sulle coste del Brasile, quando arrivò Louis-Antoine de Bougainville, questo esploratore matematico francese, aveva dei botanici a bordo e raccolse queste piante e le portò in Francia, in Europa, che poi sono arrivate in Europa, a Bari e in tutta Europa. Ecco, la Bougainvillea si chiama così, c'è la sanderiana, quella colorata. Però stiamo divagando, stiamo andando su altre conoscenze. Però da dove nasce la passione per Tahiti, per la Polinesia? Allora, quando questi navigatori arrivarono a Tahiti, Tahiti come dicono in lingua tahitiana, e l'impatto è fatale. È fatale per quanto riguarda il tatuaggio, è fatale per quanto riguarda la religione, la cucina e tante altre cose. E tutto questo mi ha formato, mi ha completato e ho pensato al ritorno in Italia di poter colmare questa lacuna. Nella storia tahitiana non esiste un'enciclopedia e manca a farla posto. Un barese, un italiano, ha pensato a mettere a frutto. Come si è riuscito a mettere insieme oltre 12.000 stando 25 giorni? Attraverso le ricerche, attraverso le letture, ore, ore, ore passate. Ma anche in lingua originale? Sì, in lingua originale. Rassolio, barba e capelli, ovviamente. A me lo deve dire, perché ha visto che sono calvo e quindi, rassolio, barba e capelli, bravo, bravo. Questo perché non esiste, dicevo prima, un'enciclopedia nella lingua... In Polinese non esiste. La Polinese che è formata da 5 arcipelaghi, non esiste un'enciclopedia. Quando è stata l'ultima volta, quei 20 giorni, quell'unica volta, perché poi con la RAI 5 giorni ormai... Allora... Quando è stata? Nel 1997, con mia moglie, che purtroppo mi manca da due anni... Sì, vivo in solitudine, una maledetta solitudine e per fortuna frequento la Puglia Europa, l'università della terza età, con il bravissimo presidente Franco Minervino. Oggi pomeriggio, per esempio, alle 17 c'è un incontro... Su cosa? Non sulla Polinesia? No, no. Sulla Polinesia si comincerà a parlare dal 24 di ottobre perché sarò un oratore, sarò una persona conoscitore dell'antropologia polinesiana come stata coniata proprio con le altre materie che verranno affrontate. E noi ti facciamo i nostri più grandi complimenti perché già avere una passione nella vita è fondamentale. Tu ti sei appassionato stranamente per chissà quale alchimia, ti sei specializzato in antropologia polinesiana, haitiana per la precisione... Tahiti è un'altra cosa. Tahiti è un'altra cosa. Tahiti si trova nell'America centrale, Tahiti è nel Pacifica meridionale. Non c'è niente, sono confuso. Mi hai fatto confondere perché trovare una persona di questo spessore... Quando si arriva a Tahiti l'impatto con un personaggio è determinante, è fatale ed è Polgo che è un pittore francese... Che ha diverse tracce lì perché lui è stato lì. Sì, ma lui è sepolto nell'isola di Ivaoa, è l'arcipergo delle isole marchesi e non tutti sanno che accanto a lui nello stesso cimitero è sepolto anche un chansonire belga, Jacques Brel. Jacques Brel, memorabile, Jacques Brel, chi non lo conosce, un paroliere belga. Ne me kit pa e... E naturalmente conto di ritornare in Polinesia per la terza volta per ampliare le mie conoscenze. E suggellare un po' questa passione che noi ti auguriamo di poter ancora sviluppare. Per gli amici di Quinto Potere spero di essere stato utile... Utilissimo, te lo dico io. Per quanto riguarda la cultura e cercate di ricordarvi che a Bara esiste un barese, l'unico italiano che è stato oltre cinque volte in questa trasmissione, domenica in Italia sì, addirittura poi per cambiare un po' e poiché mi ritengo un camaleonte, mi trasforma l'occorrenza, sono stato alla corrida due anni fa. Di Corrado, no, ormai Corrado non c'era più. Carlo Conti. A fare cosa? Carlo Conti, l'imitazione in dialetto barese dei gatti. Ti lasciamo rifacendo quella imitazione. Beh vabbè, erano dieci imitazioni. Fallo, fallo. L'imitazione, il gatto quando vede un cetriolo si spaventa in dialetto barese. Madonna, che da morto in dialetto barese. Poi c'è il gatto gay che non me l'hanno voluto far fare. Invece noi te lo facciamo fare. Invece per gli amici di Quinto Potere, ora cercherò di farlo, il gatto gay. E poi il gatto quando vede un cane che si avvicina, si avvicina, allora rizza la coda, rizza il pelo, alza la coda. Guardando, dice, no, chi da morto, vatten da do. Diciamo che il chi da morto ricorre spesso. Sì, poi ancora, ancora un altro paio. Beh, un altro, quando il gatto è innamorato, quando è in amore in febbraio, in marzo, il gatto allora immancabilmente dal piano vicino gli arriva la scarpa, gli arriva una scarpata e naturalmente, e poi c'è la solita bestemme che non la vorrei ripetere per rispetto a chi è morto. A che morte, sì, sì, ecco. Eh, vabbè, però faccio l'imitazione, non dirla bestemme, non faccio l'imitazione. Beh, l'imitazione quando gli arriva una ciabatta. Eh. No, vatten da do, che cazzo fa, cioè? Poi ancora un altro e chiudiamo. Un'altra, l'ultima imitazione è quando... Il gatto. Il gatto è innamorato, innamorato e arriva un altro gatto maschio, la femmina purtroppo dovrà sopparcarsene tutte e due. Aia, aia, e come fa? E allora, e allora, in un certo momento, questo è tragicomica la cosa, quando il gatto attraverso gli accerchiamenti riesce a salire sulla gatta, l'altro gatto, l'altro gatto, il maschio che sta a guardare, non vuole soltanto guardare, ma addirittura è salito sul maschio. Il gatto, ogni buco è trincetto. Ogni buco è trincetto. E qui come fa? Chi che fa? E qui sta a guardare, la gatta, la gatta, la gatta, il gatto che è salito sopra, è un altro gatto. Il gatto che è salito sopra, poi naturalmente questo qui è... Ah, madonna, mi ha giusto l'ora. Eh sì, perché non aveva mai il problema. È a doppio gusto. È a doppio gusto. Come la nostra intervista che ci ha concesso Riccardo Vicanosa, che sa un po' di tutto, di ogni cosa, Tino, dall'antropologia polinesiana, di Haiti, non di Taiti. Un saluto. Taiti o Haiti? Taiti. Non confondo, c'è poco da fare, mi confondo. Un saluto in taitiano. In taitiano e in yaorana, dicono ora, Taiti, quando vanno via, quando si saluta. E però la signora ha detto una cosa che invece ci dà la opportunità di chiudere questo servizio, perché diceva la signora... Chi va lontano? No, chi va piano. Chi va piano va lontano, chi va forte va alla morte. Questo c'entra, chiudiamo. Non c'entra una... Però c'entra sempre perché vi invitiamo alla massima... Chi va piano va lontano, chi va forte va alla morte. Vi invitiamo proprio... Questa è un'intervista surreale. Dimmi, Tino. Piano, andare piano. Arrivederci, signora. È stato sempre su quinto potere. Mi raccomando, YouTube... Facebook, YouTube, Instagram, Twitch... Va bene, è stato un piacere. Tutto nostro. Yaorana. Yaorana, che vuol dire... Arrivederci. Arrivederci, ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Beh, mo, somani... Veloce, veloce. No, qua rimaniamo per tutta la giornata. No, qua rimaniamo per tutta la giornata.